record on this computer. Buonasera a tutti, questo è il nuovo appuntamento che facciamo tutti lunedì alle 18.30 sul canale di Sinistra Classe Rivoluzione. Questa sera abbiamo con noi da New York Antonio Balmer per parlare della situazione negli Stati Uniti. Come sapete gli Stati Uniti sono ormai il paese più colpito dalla pandemia, che ha il maggior numero di contagiati e purtroppo anche il maggior numero di vittime. Al tempo stesso sono anche al centro di un enorme cambiamento politico ed economico che si sta intrecciando con la crisi sanitaria e su questo abbiamo rivolto alcune domande ad Antonio. Antonio è invitante e collaboratore di Socialist Revolution negli Stati Uniti, che è la sezione statunitense della tendenza marxista internazionale. I link del sito e della pagina sono nella descrizione di questo video che trovate qui in basso assieme ai riferimenti della nostra organizzazione militare. Buonasera Antonio. Buonasera Claudio, grazie per l'invito. Allora, grazie a te per la disponibilità. Come dicevo, gli Stati Uniti sono al centro di una crisi sanitaria ed economica. La prima domanda che ci poniamo è fino a che punto c'è una consapevolezza tra le masse, diciamo, di questo cambiamento. Qual è la reazione di massa a questi avvenimenti? Sì, direi che la coscienza delle masse è stata colpita di una forma drammatica, come in tanti altri paesi. Se facciamo un confronto, per esempio, con gli eventi dell'ultima crisi del 2008, in tutta quella crisi 8 milioni di lavoratori hanno perso il suo lavoro. Invece già soltanto nelle ultime, queste ultime settimane, quattro settimane, il numero non è soltanto raddoppiato, è già quasi triplicato. Cioè, oltre 22 milioni di lavoratori si trovano improvvisamente senza reddito. E questo colpo viene al di là di una situazione in cui già prima della crisi, oltre l'80 per cento dei lavoratori americani non avevano nessun tipo di risparmi. Cioè, quello che chiamiamo paycheck to paycheck, vivere stipendio a stipendio, 80 per cento della classe. Allora, quindi parliamo di una situazione impossibile per milioni di famiglie operaie, con il risultato, per esempio, che più di 40 per cento delle famiglie a Nova York non hanno potuto pagare l'affito in questo mese. Molti stanno... In molti stati, temporaneamente, si hanno sospeso gli straffi, gli sfratti, scusa, ma prima o poi i proprietari ovviamente esigeranno il pagamento dell'affito. E intanto c'è una crisi anche abitativa, che nell'ultima crisi, in 2008, o 11 milioni di famiglie hanno perso le loro case e questo non è mai stato risolto affatto, perché ci sono ancora oggi quasi la stessa cifra, 11 milioni di persone che non hanno un alloggio adeguato. Milioni vivono o per strade oppure vivono due o tre famiglie insieme in piccoli appartamenti o in rifugi senza tetto, persino dentro delle sue macchine. Inoltre, stiamo appena all'inizio di questa crisi. Purtroppo, la riserva federale ha pubblicato pochi giorni fa una previsione economica che parla di una crescita del tasso di disoccupazione che credono che raggiungerà il 32%, cioè prevedono che 47 milioni di lavoratori perderanno il loro posto di lavoro, cioè ben oltre il livello della grande depressione. Quindi è già diventato che è chiaro che questa crisi è molto più profonda e alla questione economica si aggiunge anche la minaccia del virus, queste scene orribili che stiamo vedendo negli ospedali. Ma inoltre, per quanto riguarda l'impatto sulla coscienza dei lavoratori, c'è una differenza fondamentale rispetto al 2008, è che l'ultima crisi era fondamentalmente una sorpresa, non lo aspettavano. Mentre che questa volta l'ultima crisi ha trasformato la vita di milioni, c'è un ricordo chiaro di quella crisi, un'intiera generazione ha formato la sua perspettiva in generale del sistema capitalista. Quindi l'ultima volta non hanno saputo reagire perché sono stati totalmente sorpresi, paralizzati dagli eventi. Invece questa volta è tutto un altro discorso e vediamo una volontà di reagire, di resistere. Addirittura in un profondo stato d'animo di rabbia di classe. Ecco, questa crisi è stata una fortissima accelerazione in pochi giorni e tuttavia noi sappiamo anche dalle notizie che voi ci avete spiegato in questi anni che negli Stati Uniti già almeno da 4-5 anni, dal 2016, ma anche prima, si vedeva una forte radicalizzazione soprattutto fra i giovani che si è vista in vari movimenti politici. Ecco, puoi riassumere un po' le tappe di questo processo, quello che è avvenuto prima sul piano politico, soprattutto nella gioventù nordamericana. Sì, è un processo che ha iniziato fa anni. Possiamo osservare che, direi che per vasti strati della popolazione americana la propaganda anticomunista tradizionale della guerra fredda ha totalmente perso il suo effetto di fronte a effetti molto più concreti, che è il declino nello standard di vita, l'esperienza di questa crisi e soprattutto per una generazione che fu formata per quella crisi, i cosiddetti millennials, che in realtà è piuttosto la generazione dal 2008. E il risultato è stato uno spostamento massiccio dell'opinione pubblica e soprattutto fra i giovani, ma anche i diversi strati della popolazione in generale, un rifiuto del sistema capitalista e un'ampia simpatia verso il socialismo. E direi che la crescita del malcontento in certo grado era visibile già da molti anni, per esempio, dal movimento Occupy Wall Street 2011, ispirato dalla rivoluzione egiziana, ma fondamentalmente una manifestazione e una rabbia contro i ricchi, i banchieri, il capitalismo, anche se a quel punto il movimento non si proponeva apertamente una soluzione socialista. E' precisamente questo il cambio, il cambiamento decisivo che abbiamo visto negli ultimi anni attraverso una serie di inchieste che, per esempio, dimostrano che oltre il 40% della popolazione americana hanno delle simpatie per il socialismo. Cioè si tratta di 100 milioni di persone che vedono il socialismo come una cosa positiva. E tra le persone di meno di 35 anni il 70% sarebbero disposti a votare per un candidato socialista. Allora possiamo domandarci cosa significa questa etichetta socialista per milioni di persone nel contesto di un paese che non ha vissuto un movimento socialista da più di 70 anni. in certa misura direi che è proprio quello che ti aspetteresti. È un movimento emergente, un po' confuso anche, in un certo senso sta cercando di orientarsi, discutendo questioni un po' elementali di strategia che, a proposito, è una delle cose più interessanti per noi marxisti, perché invece di avere sempre le stesse discussioni noiose del passato sulle domande più basiche, l'ABC del socialismo, troviamo adesso uno strato di giovani lavoratori che si propongono addirittura rovesciare il capitalismo. vogliono studiare il bolshevismo, istruirsi nella teoria marxista, scoprire come possiamo raggiungere questo obiettivo, come è possibile che la classe lavoratrice prenda il potere. Quindi non si tratta neppure di pochi gruppi marginali, poche persone che sostengono queste aspirazioni rivoluzionari, anzi vediamo che anche milioni di persone oggi si identificano come comunisti o persino marxisti. certe inchieste dimostrano che il 35% dei millennials hanno simpatie per il comunismo e per l'azione rivoluzionaria. Quindi direi che è senza dubbio un cambiamento profondo del panorama politico. Ecco, tu hai parlato dei giovani, come si diceva. Fino a che punto secondo te questa radicalizzazione oggi coinvolge anche la classe lavoratrice? Fino a che punto questo si sta interagendo con la pandemia? Noi abbiamo visto ovviamente notizie di shopperi, per esempio in Amazon o in altre grandi industrie. In generale in tutti i paesi vediamo che l'epidemia sta molto mettendo in luce le differenze di classe. Sta proprio scavando un abisso nella coscienza tra le diverse classi sociali. Tu vedi questo anche negli Stati Uniti? Come si legano questi processi secondo te? Sì, sì, sicuramente. Direi che la radicalizzazione ha avuto un impatto importante e non solo di raggiungere settori della classe con questo stato d'animo. Anzi, stiamo vedendo una rinnovazione della composizione stessa della classe, nella misura in cui questa nuova generazione è diventata la più numerosa della popolazione in generale e anche della classe operaia. Ci sono 75 milioni di persone che fanno parte dei millennials e questo ha delle implicazioni importanti per il movimento operaio. Per esempio, anche se attualmente il numero di lavoratori americani organizzati dentro i sindicati è molto ristretto, soltanto un 10-11% dei lavoratori appartengono ai sindicati. C'era un'altra inchiesta del 2018 che indicava che la metà dei lavoratori del paese vorrebbero unirsi a un sindacato se ne avessero la possibilità. Quindi sarebbero 60 milioni di nuovi membri per i ranghi organizzati dalla classe. La direzione, però, del movimento operaio è una forza estremamente conservatrice che non solleva un dito per organizzarli e che non passa mai all'offensiva. Direi però che c'è un'eccezione importante, la dirigente del sindicato degli assistenti di volo, Sara Nelson, ha perfino fatto un appello a un certo punto a fare un sciopero generale. Ma quello che vediamo oggi nel contesto di questa pandemia è che, di fronte a questa minaccia sanitaria, la lotta di classe si sta intensificando e abbiamo visto scioperi selvaggi, wildcat strikes, cioè azioni da parte dei lavoratori senza l'iniziativa oppure l'autorizzazione della direzione sindacale. E dall'inizio del mese scorso abbiamo visto 95 scioperi di questo tipo, soprattutto nel settore dei servizi, i fattorini, settore alimentare, distribuzione, produzioni, magazzini e da un lato azioni spontanee da parte dei lavoratori per sospendere direttamente la produzione, nel caso di Amazon, in cui c'erano casi confermati di contagio tra i lavoratori e i padroni, nonostante volevano obbligare a tutti a lavorare come se niente fosse. Cioè per i padroni ovviamente non è più che un'enorme opportunità commerciale. Oppure per fare rivendicazioni per dispositivi di protezione, aumento dei salari, noi abbiamo proposto un raddoppiamento dei salari per tutti quei lavoratori essenziali che devono continuare a lavorare e infatti abbiamo visto che questa rivendicazione si sta diffondendo. Abbiamo anche visto uno sciopero di mille lavoratori in un impianto di lavorazione della carne. C'era uno sciopero di 13.000 lavoratori della costruzione che in questo caso è stato appellato dal dirigente sindacale sotto la pressione dei lavoratori. Anche nel contesto di altissima disoccupazione è molto evidente il ruolo critico che svolgono i lavoratori nella società. Tu prima hai parlato del movimento Occupy e di altri processi politici. Sicuramente negli ultimi anni anche dall'Europa si torna a guardare gli Stati Uniti e la sinistra negli Stati Uniti, cosa che in passato non succedeva soprattutto dopo la campagna di Bernie Sanders nelle primarie del 2016 quando sembrava che potesse sconfiggere Hillary Clinton e anche con le elezioni al congresso successive due anni dopo l'emergere di una figura come Alexandria Ocasio-Cortez o altre deputate che incarnano in qualche modo una corrente che viene vista come socialista. Ecco, tu come definiresti queste figure e come hanno reagito a questa crisi che viviamo in queste settimane? Sì, direi che questa campagna di Sanders, l'ultima campagna del 2016 rappresenta l'inizio di questa apertura politica verso la sinistra di questa forma drammatica che l'abbiamo visto perché prima di questa campagna Bernie non era una figura politica ben conosciuta al di là di un piccolo strato della sinistra. In media, gli strateghi politici del sistema furono tutti colti di sorpresa per l'impulso della campagna che ha rivelato l'appoggio in questo paese per una figura che si dichiarava socialista e che proponeva di fare una rivoluzione politica contro i miliardari. Sicuramente questo messaggio ha risvegliato profonde speranze tra milioni. Queste speranze però hanno scontrato adesso bruscamente contro l'apparato del Partito Democratico anche nel 2016 e nuovamente oggi e abbiamo spiegato che c'è una profonda contraddizione nella strategia di Bernie e di tutti questi altri candidati che si sono dichiarati socialisti che vogliono combattere i capitalisti ma attraverso il veicolo politico principale della classe capitalista, un partito borghese. Quindi noi marxisti abbiamo interagito energicamente con questo movimento sostenendo sempre l'aspetto positivo della crescita delle idee socialiste mentre allo stesso tempo abbiamo cercato di avanzare sistematicamente l'idea che per realizzare gli obiettivi di un movimento socialista compreso qualunque riforma vantaggiosa ma più di quello per poter stabilire un governo della classe lavoratrice dobbiamo innanzitutto fondare un partito della classe lavoratrice indipendente dalle forze politiche liberali della borghesia e questo argomento credo che è diventato molto meno astratto negli ultimi giorni ma dopo il fine della campagna elettorale di Bernie ma c'è un dibattito molto diffuso nell'emergente movimento socialista sulla strategia elettorale e con il successo di Alexandria Ocasio-Cortez molti hanno percepito quell'evento come una conferma della strategia di usare la piattaforma di quel partito per i nostri scopi e noi abbiamo spiegato invece che quell'apparato non ci appartiene affatto appartiene a loro, ai capitalisti e inoltre il metodo di lavorare dentro al partito democratico ha costretto i candidati a moderare il loro messaggio politico quindi a mettere da parte il contenuto veramente socialista all'ora di fare queste campagne sicuramente la campagna per queste elezioni primarie sembrava che Sanders fosse partito molto forte che potesse addirittura vincere la candidatura invece c'è stato un rapido ripiegamento quella che io definirei una vera e propria capitolazione con la scelta di ritirarsi che è stata fatta la settimana scorsa la campagna di Sanders sicuramente aveva dietro decine o centinaia di migliaia di attivisti secondo te come stanno reagendo a questa sua capitolazione alla scelta di sostenere Joe Biden? Sì è stato un colpo forte soprattutto considerando il risultato nelle prime tre preelezioni che Sanders ha vinto e nuovamente i portavoci della borghesia si trovavano all'inizio dell'anno in uno stato di panico assoluto c'era un commentarista, un personaggio dalle notizie CNN che addirittura ha fatto un confronto fra Sanders e il virus si domandavano apertamente come possiamo fermare l'avanzata di Sanders e del virus ma poi hanno trovato la maniera hanno praticamente obbligato gli altri candidati a ritirare le loro campagne e a sostenere Biden contro Sanders e c'era una pressione tremenda su Sanders a parte di tutto l'establishment compreso dall'ex presidente Obama dei media per spingere Sanders a sospendere la sua campagna elettorale finalmente ha fatto proprio questo sarebbe stato meglio riconoscere lo stato d'animo e tra tanti strati della popolazione questa volontà di lottare contro il sistema contro lo status quo è che Sanders avesse preso l'iniziativa di fondare un nuovo partito ma Sanders non se l'ha proposto e quindi in certo senso sembra che l'apertura politica in cui tanti avevano sperato si è chiusa ma visto che non è la prima volta che abbiamo vissuto questa esperienza stavolta è un evento che ha permesso a molti di riflettere e trarre conclusioni importanti e perfino la portavoce per esempio della campagna elettorale di Sanders la portavoce di tutta la campagna nazionale, Brianna Gray ha detto che non sosterrà la candidatura di Biden ha dichiarato che lei aveva sostenuto Sanders in base alle sue rivindicazioni sociali per la sanità pubblica gratuita cancellazione del debito studentesco che sono 45 milioni di studenti che hanno questo debito aumentare le tasse sui ricchi Biden ovviamente non sostiene nessuna di queste proposte quindi questo sta avendo un impatto importante effettivamente ci sono molti più adesso direi che nel 2016 che non sono disposti a sostenere il candidato dell'establishment vogliono uscire da questo ciclo infinito e ora d'altra parte l'amministrazione di Trump è odiata da tanti ma le persone sono stanchi di dover scegliere tra due opzioni talmente odiate la settimana scorsa iniziando quando ci è arrivata la notizia del fine del ritiro della campagna di Sanders abbiamo ricevuto circa 200 messaggi di persone da tutti gli angoli del paese che descrivono le loro conclusioni di fronte agli eventi dicono cose come per esempio mi sono reso conto che abbiamo bisogno di una soluzione rivoluzionaria un altro dice ho perso tutta la fede nel sistema elettorale i democratici ci hanno deluso per l'ultima volta abbiamo bisogno di qualcosa di più audace quindi abbiamo chiamato e parlato con moltissime di queste persone negli ultimi giorni oltre 50 che ci chiedono soprattutto cosa dobbiamo fare come possiamo organizzarci io credo è una buona risposta sì sicuramente dimostra una situazione eccezionale forse senza precedenti da molti anni ecco legato a questo le ultime cose che ti voglio chiedere molte delle figure invece che hanno sostenuto Sanders in passato per il momento a partire dalla stessa Ocasio Cortez mi sembra di capire anche la rivista Jacobin che comunque è un po' il portavoce di un po' questa area socialista si sarebbero dichiarati disponibili a sostenere la candidatura democratica e dunque a sostenere Biden questo significa che si sta aprendo uno scontro politico all'interno di questo movimento che fino adesso era articolato ma era bene o male sembrava abbastanza unito c'è sempre un dibattito pubblico su questa questione se sostenere il candidato democratico o se scegliere altre opzioni altre strade sì 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 anche in questo caso esistono diversi strati quelli disposti a rifiutare il sistema che dicono che questa casa è in fiamme e dobbiamo trovare una cita anche radicale e ci sono molti altri che però prenderanno più di tempo per trarre le stesse conclusioni comunque credo che il sistema politico con questo ciclo infinito di questo scambio costante tra i due partiti ha già perso profondamente la legittimità nella vista di milioni e soprattutto dei giovani è più importante da notare che non c'è nessun modo per ristablire questa fiducia pubblica quindi penso che abbiamo visto soltanto l'inizio delle nuove conseguenze politiche di questa nuova epoca stiamo entrando in un nuovo decennio che credo che sarà totalmente diverso rispetto all'ultimo periodo e dagli Stati Uniti credo che molti socialisti guardavano gli eventi massivi in tanti altri paesi in Europa, in Latino America da recente probabilmente molti si domandavano quando saremmo in una situazione come quelle che vediamo nel resto del mondo era anche difficile di immaginare una eruzione rivoluzionaria di lavoratori americani però credo che la distanza psicologica di questo tipo di eventi sia ridotta drammaticamente di fronte a quello che abbiamo vissuto nelle ultime settimane c'è un livello di malcontento di rabbia ben oltre il fenomeno di Sanders e di queste figure così moderate dell'ambito politico e credo che lo spostamento che abbiamo già osservato verso il socialismo che deve ancora essere più definito più concretizzato sono sicuro che vedremo l'evoluzione rapida di questo movimento emergente verso un movimento che si proponga orizzonti rivoluzionari chiari, inconfondibili e stiamo osservando già l'inizio di questo oltre il 60% degli americani non sostengono nessuno dei due partiti rifiutano tutti e due vorrebbero avere un altro partito quindi questo è anche un sentimento che si sta intensificando sempre di più e ci sono però molte forze politiche nella sinistra americana hai menzionato innanzitutto la rivista Jacobin è un esempio di una portavoce del movimento che ha sistematicamente argomentato che non possiamo superare il sistema bipartitico e pertanto difendono questa strategia fallita di utilizzare il veicolo del partito democratico per i nostri fini e il ragionamento che propongono è che la sinistra in questo paese non ha mai riuscito a fondare un partito operaio e pertanto questo compito è una impossibilità noi invece rifiutiamo questo argomento e spieghiamo che se le tentative del passato hanno fallito questo non è una conseguenza della struttura politica che non permetterà mai la creazione di un nuovo partito anzi è una conseguenza degli errori della direzione del movimento operario e della sinistra o anche della mancanza totale di direzione e se questi dirigenti e portavoci del movimento insistono che è impossibile non possiamo prendere questa strada dobbiamo semplicemente accettare quello che già esiste di fronte a noi io direi che questo è il problema prendiamo l'esempio dei socialisti democratici d'America che hanno avuto questa crescita impressionante ma cosa hanno fatto con le loro risorse con decine di migliaia di militanti si sono limitati a sostenere le campagne di una serie di candidati del partito democratico che mettono da parte le domande sul capitalismo e il socialismo moderando il discorso e ora in questo momento critico dove milioni di persone vogliono un cambiamento i socialisti il movimento si trova subitamente senza niente da offrire immaginiamo se invece tutte queste risorse impegnassero a fare una campagna sistematica collegata a tutto tipo di lotte sociali e proponendo la fondazione di un nuovo partito organizzandosi come una corrente socialista dentro al movimento operaio facendo un'agitazione sistematica per una rottura del movimento sindicale dal partito democratico per fondare un nuovo partito di masse questo avrebbe un impatto tremendo un partito di milioni solamente si può creare a partire di forze massive cioè a partire dei numeri e le risorse del movimento operaio organizzato direi che c'è la volontà esiste già nella società quello che manca è un elemento critico una direzione, un leadership ma c'è anche questo strato importantissimo di persone che vogliono istruirsi a partecipare nella formazione di una direzione rivoluzionaria quindi le prospettive direi che sono buone per la crescita rapida delle forze e l'influenza del marxismo negli Stati Uniti bene Antonio io ti ringrazio credo che si può sintetizzare forse le cose che ci hai detto dicendo che gli Stati Uniti forse diventeranno tu dicevi in passato si guardava dagli Stati Uniti ad altre parti del mondo e probabilmente invece sarà dal resto del mondo che si guarderà alla sinistra al movimento operaio alla lotta di classe negli Stati Uniti come un esempio da studiare attentamente in una crisi che comunque ha una dimensione internazionale senza precedenti e che sta veramente omogeneizzando e compattando lo scontro di classe su un piano planetario mi verrebbe da dire io ti ringrazio ancora, ti saluto ti faccio gli auguri per il lavoro della nostra sezione negli Stati Uniti e siamo sicuri che fra pochi mesi parleremo di nuovi grandi passi avanti nel processo che ci hai descritto grazie, grazie Claudio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti